Dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova, in molti su tutto il territorio nazionale, in questo periodo si stanno ponendo domande sulla salute dei nostri ponti e viadotti. Non è ancora una vera e propria psicosi, ma certamente, come accade puntualmente, a ridosso di eventi catastrofici che scuotono le coscienze e gli animi di tutti, scatta un allarme generalizzato per ogni eventuale situazione paragonabile e quindi, ad oggi, vorremmo tutti mettere un termometro sotto il braccio di ponti e cavalcavie delle nostre città per misurargli la febbre. Anche il web, nel suo sconfinato universo di tuttologi e onniscienti, fa la sua parte, soprattutto con le immagini di chi ora cammina naso all'insù perché non si sa mai. A finire nell'obiettivo dei cacciatori di Magagne è stato il cavalcaferrovie di Via del Bersaglio a Fano, che presenta nei punti di giuntura spazi sospetti e disassamenti ad un'osservazione sommaria ed inesperta, ma che comunque rientra in un piano di monitoraggio che il comune di Fano sta approntando. Sì, è un ponte relativamente giovane, come possiamo dire. Infatti è stato realizzato, mi sembra, all'inizio degli anni 90, quindi è un ponte che ha meno di 30 anni. È un ponte in calcestruzzo con travi precompresse, quindi è una tecnologia la più usata. È stato realizzato sopra la ferrovia, quindi di proprietà di ferrovie. Abbiamo chiesto a ferrovie delle verifiche, che comunque verifiche di tipo manutentivo, però anche a livello visivo si presenta in buono stato, quindi non mi sento di dire che non si rilevano dei pericoli. Quindi è il tipo di progetto e la tecnologia costruttiva che è stata usata. Ecco, nello specifico quella foto che sta circolando con quel giunto che ha quella specie di rialzo, che cos'è in realtà? Sì, è un giunto di separazione fra gli elementi strutturali del ponte in caso di sollecitazioni. Sindaco, però adesso pensate di fare qualcosa, di cercare di fare un check, un monitoraggio completo? Sì, come abbiamo sempre fatto su tutte le situazioni, bisogna essere responsabili ai bravi amministratori. Quindi faremo una ricognizione attraverso il personale interno di tutti i ponti e faremo anche, programmeremo verifiche statiche e prove di carico su quei ponti più vecchi e più sollecitati.